in Piemonte e a Torino i soldi per la cultura erano quelli che erano dopo gli ultimi tagli sono quelli che sono e i soldi che sono vanno sempre a quelli che sono quelli che invece non sono sono costretti per fare teatro a fare così venite a letto mio signore avete pregato stanotte se ricordate qualche peccato del quale la grazia divina non vi abbia ancora assolto pregate subito che vi sia perdonato e poi ma che se hai sta sigla ho sempre fatto il cioccio cioccio che intendete dire mio signore cosa che intendete dire mio signore con calma ma non tu ma e beh che intendete dire mio signore porca stroia cosa c'è cosa c'è ecco che bello eh che bello vedervi tutti riuniti qua insieme ecco in armonia eh in amore in amore da oggi puoi farlo stando comodamente a casa tua con il quadrilatero per pc playstation e per la nuova piattaforma boia faus è un prodotto non tempo a una pagheta del peccato voglio dire che è un pregoiglione non lo so così è il dubbio nel dubbio di uno perché io guardo adoro il teatro lo adoro perché io non ho visto la scelta eh sì bene come state? bene peccato eh peccato sì perché oggi ci siete ma domani chissà e l'agenzia Game Over si occupa del vostro chissà Torino è stata per anni la capitale della scienza con Experimenta da oggi Torino è la capitale del disagio con Experimerda per vivere esperienze devastanti Siamo fatti di porto Ho detto questo non pensiate che allora che se ne frega eh? eh no se ne frega una beata cimba Perciò è simile Che sono sti prendimenti? Questi qua sono i primi diplomati dell'istituto Santa Croce Cioè loro erano in Torino e sono diventati di Milano grazie all'istituto Ma perché non ci crederete? Ma ecco la prova uno, due, tre Wezzica Bravi Avete indossato gli occhiali due di e mezzo? Bravi Ora siete pronti per provare la superba sensazione di essere Sergio Chiamparino Mano fronte, mano fronte, baby One, two, three Velo Mano fronte, mano fronte Testa muro, testa muro Trizzalotto, lingua fuori Batto batto le ginocchia, baby One, two, three Capita male eh? Un'altra minchiata Francamente Cerea Cerea Mi sono Bertu E sono Tu Far E sono Il vostro maestro E Pientaes Qual è apposto eh? E lo so Appunto, prova a spiegargli magari qualcosa Allora, intanto guardi davanti a sé Sì Deve guardare dritto Va bene e parlare qui dentro ok? va bene zitto però guarda dritto e parla qui dentro e zitto boh, sono Franco Scamone Franco, Franchino va bene, Franchino chiamami Franchino che va bene va bene? e quanti anni mi dai? e io non te lo dico va bene? perché mi stai un po' qua addio che nervoso che mi fai venire è un grande onore quindi per noi avere qui stasera Bill Gates salve Bill salve Bill si cosa fai? salve con nome io ho promesso a me stesso che avrei reso più facile la vita delle persone con un semplice click ecco e allora vi dicevo tutto più facile per tutti con un semplice click San Gennario San Gennario San Gennario San Gennario San Gennario San Gennario Grazie a tutti.